galattici amici ma soprattutto galattiche amiche siamo modellisti galattici sempre qui con te galattici amici ma soprattutto galattiche amiche sempre qui ad apri di vado nel 2021 stavolta con fangatini e fangatini ehi ragazzi grazie per essere qui ci stiamo diventando un casino è bellissimo era ora cazzo non lo potevi dirlo ma tanto per cui pochi che ancora non conoscessero il fangatini siamo un gruppo di amici ragazzi non siamo un'associazione che lo sappia uno dei pochi stand di credo non si può comprare niente non si può comprare niente ma in realtà dei soldi li prendono non facciamo pagare nulla di quota perché noi siamo completamente fuori dal contesto a fare formare non ci dicevano di dare sia tutta passione sensazione facciamo un giro dello stesso che vuoi fare? molto volentieri guarda ti seguiamolo allora cominciamo da questo che è una grande novità di quest'anno è il nostro gioco sugli zombie si chiama zombie survival fight for life ed è un gioco sugli zombie basato su schede personaggio come nei giochi di ruolo ma anche tattico quindi giochi combattendo e interpretando personaggi in un'ambientazione tipo quello di the walking dead per intenderci che conoscono tutti questo invece è un bellissimo gioco sul far west dove puoi giocare lo scenario lo scenario ringraziamo le pittrici anche per i tavoli la pittrice è Barbara e Nadia che adesso non c'è però e qua abbiamo la rapina alla banca della banca di Northfield della banda Jesse James e Cole Younger e qua c'è un classico assalto alla dirigenza fantastico da questa parte abbiamo tutti gli scenari magnifici del signore degli anelli questi sono tutti piccoli demo di che cosa possiamo realizzare si possono fare battagli in grande stile con questi scenari qui c'è la parte legata al fantasy 3d costruito con la resina quindi questi sono pezzi c'era c'era ma non era questo giulio può darvi due parole su questo velocemente diciamo tattiche e questo è una novità di quest'anno la battaglia di Hastings la presa d'Inghilterra da parte di Guglielmo conquestatore quello invece è un grande classico Custer quindi lì abbiamo Fort Lincoln da cui Custer è partito nell'aprile del 76 e poi sappiamo che è andata a finire quindi ci proviamo giocando questo è l'assedio di Calais nel 1347 col principe nero che ha fatto arrendere la città di Calais durante la guerra dei cent'anni questo qui invece è un bellissimo scenario sulla battaglia del lago ghiacciato è una battaglia avvenuta tra i cavalieri tiautonici e i russi di Novgorod quindi diciamo è uno scontro magari un po meno noto ma ci sono famosi film che ne parlano quindi si possono guardare questo è un altro grande classico la legione straniera dopo diciamo altre azioni che la legione straniera ha fatto tipo Camerone questa è la più famosa dopo Camerone cioè Fort Target quello che ha ispirato anche Bogeste per intenderci da questa parte invece abbiamo uno strategico napoleonico che tratta la campagna dei cento giorni quindi Napoleone che tenta di riconquistare l'Europa risbarcando e trovando a prendere tutto quanto da questa parte c'è invece il gioco presentato per la federazione italiana wargames water the last chance cioè l'ultima possibilità l'ultima chance che è un gioco di carattere tattico strategico basato con pedine sia con simboli nato sia con pedine uniformologiche quindi questa è la versione con simboli nato questo è un gioco basato sulla guerra civile americana si chiama brothers in blood e naturalmente in due versioni ci sono i soldatini dipinti oppure le pedine cartonate a secondo di cosa una voglia di giocare e laggiù in fondo che abbiamo saltato prima perché c'era la gente intorno c'è heroescape 2.0 c'è una versione una versione nuova di heroescape creata da Davide che l'ha modificato a piacere e l'ha trasformato dal gioco originale a quello che si chiama oggi appunto heroescape 2.0 e infine lì abbiamo una rappresentazione di una città medievale fantastica che si chiama caffarae e questa sostanzialmente questa qui è una rappresentazione di una quello che è l'inizio di questa costruzione di questa città medievale poi c'è molto di più che verrà costruito nel corso dei prossimi anni lo stand come sapete già ci conoscete tutta roba fatta artigianalmente non esiste sul mercato è roba che noi ragazzi del fangatim costruiamo con le nostre belle manine se volete giocare vi prendiamo alla grande venite siamo un gruppo di amici non abbiamo quattro associative non facciamo pagare nulla le cene si fanno ancora le cene si fanno e si so che a casa mia non ci sono problemi sereni come delle pasche ma quest'anno è nata quest'idea da un noto film con questi camper spaziali c'è questa sfida goliardica non violenta per grandi e piccini e per raggiungere questo obiettivo di raggiungere questa base spaziale con questi camper molto particolari che sono astro campernavi astro campernavi e saprà benissimo dell'eroe appunto e con ognuno e con ognuno può essere l'eroe della gara quest'anno abbiamo portato abbiamo portato il sistema fognario sotto alla città dove i personaggi già si trovano in una situazione poco piacevole piacerebbe a paesiello credo che lui nei giochi di ruolo quando finisce nelle fogne finisce male ecco quindi questo è comunque quest'anno abbiamo portato questo l'anno scorso ho portato invece una montagna tutta livelli gli eroi partono dalla locanda classico e il gioco si sviluppa appunto nel sistema fognario fino a raggiungere l'obiettivo questo abbiamo portato quest'anno secche siderali secche siderali è un gioco goliardico non violento per grandi e piccini dove potete vedere appunto gli astro camper così chiamati che si sfidano in una gara dove bisogna partire dal punto più lontano e raggiungere la base orbitante e chiaramente fra mille difficoltà con i movimenti tutti diversi quindi i camper si muovono nella maniera più disparata non si riesce mai a raggiungere l'obiettivo ci si può fra virgolette chiamiamo sparare se così si può dire perché è solo un ostacolo per bloccare gli avversari più che altro e appunto in modo molto scherzoso e non c'è nulla di e in questa gara chi riesce a raggiungere appunto la base vince molto semplice molto sì insomma per tutti ecco queste cose fantastico grazie giulio com'è il fangatim ma io fangatim l'ho conosciuto per per caso gli ho fatto vedere qualche foto di quello che realizzavo e da quella volta lì mi hanno messo in croce quest'anno per noi è il primo anno esatto il primo anno di fiera già dall'altra parte della barricata e quindi io faccio appunto parte di questo team da questo anno e abbiamo portato i nostri giochi che sono Richiam Bittulu e Zweihander e poi gli altri ragazzi hanno portato Awaken, Numenera insomma abbiamo portato una bella rosa di giochi insomma siamo un gruppo nutrito di Masters e anche noi ci adattiamo a creare diciamo i nostri giochi se vogliamo perché anche noi del team nuovo abbiamo creato la storia per il nostro paese che è la Sanello in provincia di Viterbo e l'abbiamo portata con il sistema di Krulu e quindi abbiamo raccontato diciamo le storie popolari in chiave horror quindi questa è stata diciamo la novità ma io sono curioso che la tua prima fiera è impressione ma dall'altra parte ragazzi c'è da perdere proprio la voce qui perché veramente è un applusso eh sì perché sono stato quello che ha lavorato di meno io controllavo grazie ragazzi grazie ciao a presto galattici galattici amici ma soprattutto galattiche amiche siamo modellisti galattici sempre qui con te grazie a tutti